Vi faccio vedere un esercizio, un test attitudinale relativo all'indipendenza delle braccia che mi ricordo, mi è stato detto, tanti anni fa fosse il test che faceva fare Peter Erskine ai suoi allievi. Allora, mi devo allontanare perché bisogna vedere le braccia. Ecco, dunque, mi abbasso, tengo la sedia, con una mano, questa, faccio due movimenti, uno, due, uno, due, uno, due. Con l'altra faccio un triangolo, tre movimenti, un, due, tre, un, due, tre, e poi le metto insieme. Poi cambio braccio E poi scambio in corsa Eccetera. Ecco, mi riavvicino Basta! Fine del video. Ciao!